Siamo pronti, siamo ready, siamo registrati, signorina instagram, pronti, pronti, sword and shield, spada e scudo, ho detto giusto, guarda, mi ha dovuto rifare il video della presentazione di spada e scudo, perché io per tutto il video ho detto scudo e spada, ma si dai, capisci, niente, 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 ho un codice da donare per il signor Cameron e per gli amici del tubo, del tubo, del tubo, del tubo, mi hanno chiesto dei codici, li faccio adesso per Instagram, oggi faremo metà e metà, intanto partiamo col tubo, niente, è tempo di sbustarci anche gli elite trainer box della versione inglesica, dopo la versione italica, il set allenatorio fuori classe, Oggi apriamo il elite trainer box, e allora, Pokémon, pronti? Ce n'è uno già aperto però No, questo allora, non gli manca la plastica perché l'altra volta ho sbagliato e non stavo, ho aperto l'inglese anziché l'italiano, e vabbè, però l'ho tenuto, l'ho tenuto, l'ho tenuto, l'ho tenuto, volevo venderlo ma nessuno l'ha voluto comprare Ok, vediamo, sì, vediamo, sì, allora pronti, eh, check sì, ok, pronti? Bene, 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 e allora, Pokémon, è lì, trainer box, sblude, sbusta, oh che bravi, che bravi, che figata abbiamo studiato come abbiamo studiato e ci vuole ci vuole ci vuole e scuola riuscita allora aprimo prima di quello di zamazzenta zamazzenta senti come suona zamazzenta e però non ho apparecchiato bene qua il divano qua no non c'è vado a parlare un po di pupazzi arrivo subito eccoci qua eccoci qua mettiamo un po di pupazzi almeno così un po più un po più bello no ola e niente allora cosa contiene i nostri trainer box andiamo a vedercelo se ancora non hai visto il video dell'inglesico italico gustati quello inglesico vediamo cosa contiene allora abbiamo i fantastici dadini bellissimi c'è quello da 16 millimetri questo tutto sblocicoso tempestato di diamanti che figata eccoli qua i dadi piccoli stavolta ci ha messo i numeri per che possiamo utilizzarli al meglio per le nostre partite con pokemon trolling car game abbiamo una due tre otto bustine come sempre le sleeve di zamazzenta i segnalini versione nuova nuovo blocco nuovi segnalini la carta codice i divisori nostra scatola progettata in esclusiva da renzo piano e l'energia che non facciamo vedere giusto signor caro vogliamo parlare bene 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 secondo elite secondo l'intera codi zatchan ogni elite ogni prima serie di ogni blocco ha sempre due il trainer box anche in questo caso abbiamo visto in xy lo abbiamo visto con sun e moon con sole luna e lo abbiamo anche con scudo spada e scudo con sblocco bene 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 che c'è anche la guida la prima sky eccola qua è con tutte le carte la con tutta la mancolista le carte nuove così se volete fare la collezione avete questa bella guida che vi guida giusto guida guida bene 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 allora vediamo il contenuto anche del box di zatchan e voilà facciamo un po di spazio le slip a tema poi 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 la carta codice i divisori anche qua i segnalini i dati 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 vieni dobbiamo vederci soprattutto quello a sei facce sedici millimetri tutto per il circo sono di lui che ho dedicata ma che bello e niente nelle otto bustine che adesso andiamo ad aprirci adesso andiamo ad aprirci proviamo la nostra scatola e vuole a sempre sfida da mazzenta per bosz del бер il regia ci ha si buce a testa di lui fai il luglio secoli e cerco io cerco io cerco io ci ha si sposto è si sposta allora questo è boss reggio e che faccio inverto che le ci hanno abito a me la tronda è così poi mi scombino su tutto bene 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 ci ha Sì, sbusta e partiamo con la prima bustina, attenzione, sbustis, attenzione, si apre la bustina, via, vola, via, vola, vola, vola come la pe... Maia, attenzione, attenzione, si parte subito bene, c'è un bel cramorant v, cramorant v, cramorant v, com'è che è? V, prima bustina si parte bene alla grande, la coppia formata dalla signorina della regia di Instagram, il signor cameraman, che mi ha passato prima il cestino ma io non lo sto usando Attenzione, attenzione, pika pika, Pikachu and Rillaboom, Rillaboombastic, carta Tranky, molto funky, un bellissimo Pokémon Center, sì, Pokémon Catcher Attento ai trainer, attenti ai trainer, bello Pokémon Catcher, c'è un trainer che dobbiamo trovare, vero, 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 è bello eh, adesso poi lo troviamo Attenzione, seconda bustina, per la regia Pokémon Catcher Reverso, bomba, che figata, è un Gengar, olografico, altra figata Direi che la partenza di questo Elite Trainer Box non è niente male, niente niente male, considerando, c'è anche una bellissima Quick Ball E' lei, eccola qua, assolutamente, che bomba, due bustine, super top, super top, diamo anche un codice Lo diamo per il tuo o per Instagram, signor cameraman, tubo, vai col tubo, vai col tubo, si legge, si legge, si legge, si legge E il prossimo è per Instagram, uno per uno, non fuori a nessuno, Jack, se sbusta, se boss, sbusta, bello, il codice Lo diamo qua su Instagram, vediamo, vediamo, vediamo cosa succede, cosa succede in città Attenzione, attenzione, suona il telefono, ma non andiamo avanti Attenzione, vediamo, attenzione Regiro E diamo il codice, l'abbiamo promesso, lo diamo Riscattalo, taggaci nella stories Quando l'hai riscattato, e faccelo sapere, no? Se no, come facciamo, non te ne diamo più, se no Attenzione, ma vola un codice dappertutto Piano, perché ho problemi con la luminosità Che c'è, che c'è, questo stesso qualcosa Non siamo illuminati, non abbiamo messo la lampadina Ecco, il telefono nuovo, non ho problemi di luminosità Ci si vede comunque, ci vediamo A posto, a posto, a posto E di messa a fuoco La messa a fuoco, la messa a fuoco Serve un'accendino, no? A posto A posto C'è polpette O' pulpette Pulpette Attenzione, reverso And, and, and And, 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 and Ninthers, Ninthers Vabbè Comunque un trainer reverso Della busta Gli altri trainer Non c'è un'altra Quick Ball C'è un codice che vi sto regalando Il primo che lo becca è fortunato E basta, e basta, e basta Via Boss continua Alla caccia Delle carte Tutte dorate Tutte dorate E ve... �altano le carte Una roba pazzesca oggi, una roba incredibile E c'è Jumper Reverso Sandaconda Olografico, una nuova versione olografica Veramente, veramente bella, grazie a Pokémon Che ci regali sempre novità In ogni serie E non c'è la Quick Ball Bene, bene, bene Continua, però la sfida Leggermente in vantaggio Il duo, il mitico duo Della regia Ma boss segue ruota Segue ruota, la grande Che è successo? C'è qualcuno chiuso in doccia Attenzione, attenzione Attenzione Vulu And Mansdale Yes, bustina Tranchi Bustina Tranchi Boss può ancora Poco funky, perché lo dico sempre Poco funky, o molto funky Chissà, chissà Attenzione Cidraise And Cincino Salute, grazie Arrivederci E grazie Bene, continuiamo Continuiamo Abbiamo ancora Otto bustine Ho fatto vedere Allora, guarda che diamo codice Come se non ci fossero domani Va bene, va bene Per Instagram Sempre per Instagram Signor camera Messa signorina qui Volevo vedere questa bellissima Incredibile Una roba pazzesca Allora, allora, allora Attenzione Che c'è? Che c'è? Che è successo? Piavano codici Dopo piavano polpette Piavano codici Attenzione Snorrax Carta rara Vediamo se c'è la quick Non c'è la quick C'è la rail candy Però non male Non male Non male Ai punti Al momento in vantaggio Decisamente Il medico duo Della regia Vediamo se boss Recupera Attenzione Vediamo 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 Bustine Che volano Attenzione Pika pika Pikachu And And Cinderace Cinder Cinder In the race Cinder in the race E niente E c'è anche Bede Bene Meno 3 Meno 3 Meno 3 più 3 Quindi meno 6 Devo abituarmi Cià si sbusta Cià si Sbusta E attenzione Rhyron And Cloister Cartina Molto tranqui Un bel Pokémon Center Lady Sì ma noi Siamo già contenti Così Eh ma adesso Arriva 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 Quello che deve arrivare Non ti preoccupare Attenzione Arriva 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 L'applaus VMAX 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 Che bomba Che bomba Che bomba Che figata Che 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 Bello è Che bello Vediamo anche un codice Voi gli amici del tubo Prego signori del tubo Grande grazie Signor cameraman Ci voleva Ci voleva La grande Via Troppo bello Troppo bello Troppo bello E boss Vola in vantaggio Mette turbo E vediamo Metti l'applaus Vicino A giro Per cortesia Eccolo qua Va bene Perfetto Che figata Che bomba Tanta roba Tanta roba La numero 50 Barra 202 Un bel applaus VMAX Full art Non male Non male No Non male No C'è Vicino And Galarian Purser E' lui E' lui E' lui E' lui E' lui Loomberry Loomberry E boss Continua ad essere in vantaggio Siamo verso la fine Della sfida E allora Vediamo Vediamo Attenzione 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 Che bomba Che bomba Che bomba Che bomba Bomba Stuntion VMA VMAX Che figata Che figata Com'è VMAX Narcomaleno Che bomba Che figata Che spustata Che bello Vabbè Comunque Adesso vediamo Cosa troviamo Ma il resto C'è un catcher Stavo stracciando Il catcher Sono un pazzo E' attenzione A posto Quei codici Mettiamoli qua Ancora un codice In finale Abbiamo ancora Vabbè Apriamo l'ultimo Pustino di Boston Ormai abbiamo trovato Tutto Tutto quello Che ci poteva trovare Abbiamo trovato Però Una carta d'oro Potrebbe cambiare la sfida Attenzione C'è un Che c'è in due versioni Normale Reversolo E include Bustina Tranchi A chiudere Un grande Elite Nel box Veramente una figata Totale E qua però C'è solo una carta B Quindi 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 Cosa ci sarà Attenzione C'è una magia C'è una magia C'è una magia Vediamo 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 C'è Sidrace Olografica Olografica Bella Ma Così Ma così Ma non Non così Bella Diamo un codice Per il tubo Per il tubo Per il tubo Per il tubo Attenzione L'ha vista L'ha visto Sì A posto A posto A posto A posto Ragazzi Figata Figata In tuo posto Ehm Ci piace Ti piace Hai capito Perché ha scelto lui Grazie come sempre Di seguirci Grazie 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 Ci siamo sbustrati Anche Il trainer box Di Sword and Shield Devo buttare l'occhio Per leggere Se no mi ricordo Faccio sempre L'inverse Ci sbusteremo Anche il box Italico Inglesico E tutte le altre Uscite dedicate Seguici su Instagram Seguici su Lpp television E da boss Dalla signorina Alla regia di Instagram Da signor cameraman E tutto Metti un bel like Condividi il video E ci vediamo A prossima Ciao Ciao Ciao